Salve tutti ragazzi, minchia ho tirato un pugno alla scrivania di quelli Salve tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova fondata Wonderlog su Pokemon Y Nella scorsa parte abbiamo ottenuto Chinchou, il nostro purtroppo ennesimo Pokemon di acqua E oggi andremo avanti nella nostra avventura, tu cosa ci fai qua? Ah ok va bene Luminopoli la esploreremo un po' più avanti quando potremo esplorarla tutta diciamo Ah giusto non ho la bici, utilizziamo i pattini allora dai Giù di qua? No che palle, cosa vuoi anche tu? No non sono già andato al caffè non voglio andarci No mi obbliga ad andare al caffè, perfetto, quale? Bene mi sa che non ho letto qualcosa, è perfetto Ah questo mi sa che è perfetto, ho mosso tutto scusatemi Bene forse è meglio che non uso i pattini Entriamo un attimo, va bene entriamo Mi sa che non andremo poi più di tanto avanti oggi, ho già capito Qua c'è Lizy, esatto Sì Va bene Saltiamo i dialoghi come al solito Sì Va bene Ok stanno parlando del teatro Ok per servire nel tempo la bellezza Sì basta dire cagate però per piacere Sì Di anta, è solo un'attrice Certo Ciao Sì Noi chi siamo? Ok dai però fammi andare che voglio Ok Serena non rompere, no niente Siamo tutti i allenatori Ti andrò di fare una gara per vedere chi è più forte Pena diventi a Borgobozzetti Si è messo subito e vi intero Non abbiamo avuto Tre vicini per me non credere che Non ho capito però Va bene Bene Trovato adesso tu non devi stare in mezzo alle palle Devi levarti Hai ricevuto? No Basta Cosa vuoi? No Tu pure Mamma mia Sì ci sono dei pochi conservati Ci arrivo Dio quanto odio i rivali di Y Che bello tassista Eh bene Eh no Mister fratellanza Dio Sì Non li voglio i poteri o Non li voglio Non li voglio Bene Sì Yeah Ti prego Dai sono già tre minuti che registro Non sono uscito ancora da Luminopoli Oh grazie Tanto adesso incontriamo un capopalestra Se non sbaglio Eccolo No un Lucario Beh ciao Sì Sono bello Aspetta Ah no sì è vero Il capopalestra Quello con i pattini Di Yantaropoli No di Non mi ricordo Lucario vuoi conoscere questo allenatore a Rio Mi fa piacere che Lucario abbia un debole per me Eh non ho letto la città Sono un pirla Stai collezionando le medaglie Ok skipiamo malamente Sì tu vattene che devo passare Ok Va bene Allora qui no Non qui scusate Qui c'è uno strumento da prendere Se non sbaglio Da qualche parte Non ricordo esattamente dove Ah ok Giù di là Perfetto Allora niente Bene partiamo con le prime lotte Facci qua ragazzi Tentacool Ha imparato Fiele punte E quindi bene Giusto No 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 Sempre in mezzo alle palle Ok Vaffanculo Mosso di nuovo Vabbè per questo Non vinco mai Gesù Non è per caso di poco Comunque con no No ma no Ma perché Vabbè Vabbè Questa lotta Ci sta Bella la maglietta Con Vanillite Comunque Ma nel campo Corfish Wow Come il mio Io electric Peccato che non ho Mosse di elettro Quindi un electric Inutile Bene Facciamo un grido di lotte Per boostarci un po' L'attacco rapido Bene Attacco sale Luisa presa Aia Aia No 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 Fuori 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 Aiuto Zigzagoon Aiuto Farmi il culo Qua se perde un po' Come un po' Sono andata La merda Danza No No Non va bene Non va assolutamente bene Usa botte in testa E vedi di buttarlo giù Zigzagoon No 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 Sì sì Ok Oddio Ok Botta in testa di nuovo No dovremmo farcela in teoria Usa di nuovo presa Uff Dio Uccidilo 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 Uff Ce l'abbiamo fatta Oddio Uff C'è andata bene Zigzagoon Dice un po' di punti esperienze Abbiamo sconfitto tierno Bene Mamma mia che rischio Vabbè Ok Vabbè bello No Ah ok Mi date il miele No pensavo che mi sfidava Quando usi il miele Sei un po' Comodato squadra Ok Posso andare ora Grazie No veramente Oh non è che Non ce l'ho Il repellente Adesso che ci penso No perfetto Avrei dovuto comprarlo No problem Vai ok Ho superato anche l'allenatore Adesso vado a sfidarlo Ok raga Ho sconfitto questo qua Che mi ha messo Abbastanza in difficoltà Scendiamo di qua Prendiamo questo strumento Una super pozione Bene Mettevo nella borsa E andiamo avanti Ok Saltiamo giù di qua Adesso speriamo di non incontrare Pokémon Bene Dai Ok Bene Andiamo su di qua Di qua non c'era Ah no ecco qua Però mi sa che dovevo usare il taglio No No senti Lo faccio un'altra volta Non ho voglia Ok c'è gente Che gira con i pattini Prima tu Ehi Ok Ok Facciamo che quello All'allenatore lì in alto Lo battiamo offline Dai Così non perdiamo tempo Inutile Allora Tu aspetta Tentacule ancora Al Quinich Zigzagoon E in fin di vita Aspetta Carichiamo Zigzagoon Con una super pozione Quella che ho appena ottenuto Eccola qua Super pozione Zigzagoon Bene Per la prossima parte Gli alleno un bel po' Tipo per portarli al 18-19 Direi Perché Noto che ho Teiseri problemi Maledizione Un biduf Siamo morti Ok Vai tenta Mi sono dimenticato di tagliare la battaglia Vabbè ormai la facciamo Sperando che non duri un fottio E' azione Aia Lastardo Dai ancora Tentacule Dovremmo resistere a un A un altro suo colpo Riccio il scudo Inutile Non c'è che dire E' bello questo Scusate un attimo Ecco qua C'era uno sputo No Ho sbagliato tutto Ho sbagliato Ho miscliccato Ho usato veleno a spina Vabbè Poteva andare peggio Finiamolo Con veleno a spina Tanto ormai Bene Ciao ciao Biduf Che carino anche in realtà Non è brutto Però è scarso Come Come Una cosa Scarsa Oddish Noi cambiamo Ma andiamo zigzagoon Tutta la vita Se mi sentite tirare Lo su un po' Con il nasa Perché sono ancora Raffreddato Manda in campo Oddish Bene Noi con botto in testa Come al solito Lo scendiamo Acido Non ci fa niente Vabbè Ci abbassa la difesa speciale E con botto in testa Lo finiamo Bene Lo finiamo vero Sì Ok Battuto anche questo allenatore Possiamo procedere Nella nostra avventura Per Kalos Grazie a Biduf Ho potuto incontrarti Ne sono felice Bene Grande Ok Giù di qua Aspetta Aspetta Campeggista Dei miei stivali Ok No Non sei un campeggista Sei un tutto Un viaggiatore Vabbè Non è importante Bene 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 Aveva un centret Schifoso Allora Evitiamo sta cazzo di erba No Maledetto Gennaro Ok bene Aveva un centret Adesso qui Avremo bisogno di taglio Per renderci qua Ma noi Ce ne sbattiamo E arriviamo a Castelvanità Bene Non mi ricordavo il nome Riceviamo subito un messaggio Sull'olvox Perché la gente Non può lasciarci in pace No Ci dovrò rompere i coglioni Cioè Ti dico cliente Grazie mille No Pure la pubblicità Questo prodotto Sì Ma perché mi devi mandare un messaggio Perché Perché Allora Ci curiamo E interrompiamo la parte Credo Perché penso sia già durata abbastanza Non ho sott'occhio il tempo adesso Però Immagino di sì Bene ragazzi La parte di oggi Finisce qua Se non sbaglio La parte numero 5 Speriamo In un non fail Ok No ho sbagliato Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale E noi ci becchiamo In un prossimo Video